Parliamo di Portogluaro, verrà convocato un consiglio comunale straordinario sulla TAV, perché e quando? Borto Mainardi, che è il commissario per l'alta capacità e l'alta velocità, ha dato un'indicazione ai sindaci di rispondere entro il 30 giugno sul tracciato che intendono portare avanti rispetto al no forte che c'è stato rispetto al tracciato sud. Quindi prima è chiaro che questo è un argomento talmente delicato che non può essere affrontato solamente dalla maggioranza, ma deve essere affrontato da tutto il consiglio comunale. Quindi entro quella data verrà convocato un consiglio comunale sperando di trovare una soluzione unitaria e quindi portare il contributo della città di Portogluaro alla definizione di un problema che è complesso e difficile, che richiederà anche qualche problema da risolvere, perché quando si parla di alta capacità e di alta velocità sicuramente gli interventi non sono indolori, a qualcuno crea dei problemi, però bisogna che noi andiamo avanti. Grazie Bertoncello, linea alla redazione centrale. Grazie a tutti.